buongiorno ragazzi benvenuti sul mio canale è arrivato amazon adesso apriamo insieme il video vediamo insieme cosa c'è dentro e partiamo subito col video ragazzi adesso apriamo questo è il detersivo per per il bagno e in poche parole serve per pulire il bagno ciao ragazzi alla prossimo tutorial anzi no aspetta c'è un altro pacco c'è un altro pacco ragazzi un altro pacco adesso apriamo insieme il secondo pacco e questo è il bc per il bagno con questo è tutto ragazzi spero che il video vi è piaciuto commentatelo condividetelo con i vostri amici e al prossimo tutorial ragazzi ciao a presto oh yeah